La repressione in Siria è iniziata da tre anni. Era il marzo del 2011. La situazione oggi è drammatica, al limite del disastro umanitario. 9 milioni sono gli sfollati interni, persone che hanno perso la casa e che sono alloggiate nelle tendopoli o in rifugi di fortuna. 3 milioni sono invece le persone che si trovano nella condizione di profugo in uno dei paesi confinanti con la Siria. Noi giovani italosiriani abbiamo costituito un'associazione. Si chiama ONSUR, una parola araba che vuol dire sostieni. Abbiamo realizzato nove missioni nel 2013 portando in Siria 37 ambulanze cariche di aiuti umanitari. Tra i nostri progetti c'è anche quello dei pacchi alimentari. Con 30 euro riusciamo ad acquistare direttamente in loco materiale per costituire un pacco che sfama una famiglia per due o tre settimane. Stiamo distribuendo gli aiuti umanitari raccolti dalle due associazioni di volontariato itali-siriane ONSUR e OSMEI nella loro nuova missione all'interno delle città siriane. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre.